Il centrodestra ha scelto. Sarà l'ex vice commissario di polizia Marco Lanzi il candidato a sindaco di Pesero in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Lanzi come punto di convergenza per la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Civici Marche e Udc. Partiti che ieri hanno ufficializzato la scelta attraverso un comunicato in cui si è ricordato come Lanzi si ha già al lavoro da settimane ed è un profilo che rappresenta perfettamente la sintesi di un progetto politico aperto alla città. 61 anni, 38 dei quali trascorsi da figura di riferimento della polizia pesarese fra i ruoli di vice commissario e responsabile del sindacato SIULP, Lanzi è recentemente andato in pensione ma quanto mai coinvolto nello sviluppo di progetti nel tessuto sociale della comunità. Tra questi anche il percorso di contrasto a bullismo e cyberbullismo nelle scuole diventato anche un forma d'approfondimento proprio su Rossini TV. Nell'annunciare la scelta i partiti di centrodestra non hanno risparmiato frecciatina al Partito Democratico che secondo il comunicato è passato dalla partecipazione alle spartizioni tra correnti interne fatte in una stanza. Segnale evidente è che alla segreteria del partito interessino molto più gli equilibri tra i capi corrente rispetto agli interessi della città. Centrosinistra che intanto ha fissato per giovedì un punto cruciale per arrivare a una decisione con i cosiddetti tre saggi Matteo Ricci, l'ex sindaco e governatore Luca Ceriscioli e il segretario Giampiero Bellucci all'incontro con i tre potenziali candidati Daniele Vimini, Andrea Biancani e Sara Mengucci.